direi che finalmente è arrivata la facilità lo vedete qua nel sito della juventus l'annuncio dell'arrivo di tiago motta come allenatore della juventus benvenuti a questo video speciale da partire in ic 91 vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per avere tutte le notifiche riguardanti i nostri contenuti mettete mi piace e commentate soprattutto perché questo è un video speciale particolare di riguardo alla nostra amata juventus leggiamo intanto il comunicato che è molto importante benvenuta il mister tiago motta è ufficiale il prossimo attore della juve sarà tego motta il tecnico italo brasiliano ha firmato un accordo con la juve fino al 30 giugno 2027 quindi fino a tre anni un triennale 42 anni ancora da compiere tiago motta ha intrapeso nel 2018 la carriera da allenatore partendo dalle giovanili del paris e germen la squadra con cui aveva pochi mesi prima ha terminato la sua ventura da giocatore in italia e in italia è arrivato sulla pagina giornale nel 2019 per poi a nera lo spezia e bologna la squadra nei quali negli ultimi due anni è riuscita a mettere a frutto al meglio le sue idee di gioco e con la quale ha raggiunto una storica qualificazione alla champions league le prime parole di tiago motta perché ha anche parlato tramite questo comunicato sono davvero lieto di cominciare una nuova esperienza alla guida di un grande club come la juve ringrazio la proprietà e la dirigenza cui assicuro tutta la mia abbinazione per tenere alti i colori bianconeri e rendere felici i tifosi benvenuto alla juventus e buon lavoro mister e con questo comunicato direi che diamo la nostra opinione ragazzi era nell'aria l'arrivo di tiago motta se ne già parlava a febbraio con praticamente diciamo se ne già parlava con febbraio dopo i non risultati praticamente di allegri e diciamo che è un buon colpo d'allenatore in prospettiva perché è un allenatore in ascesa è un allenatore che ha fatto secondo me molto bene sotto tutti i punti di vista e bisognerà ripeto avere molto pazienza con tiago motta perché per dare per far sì che via un gioco a questa juventus oltre a comprare i giocatori che sono adatti al suo gioco bisognerà comunque preparare bene la squadra a livello di condizioni fisiche eccetera eccetera se la juventus prenderà i giocatori che ho sentito di dagas luis palo di scu di copmemers palo di calafiori e di altri giocatori che sto sentendo non dico che la juventus è la favorita a vincere scusate diciamo che se la può giocare secondo me quello che mi sta piacendo molto di quello che sta facendo la dirigenza è che sta diciamo avendo l'idea che era su quali giocatori comprare si sta muovendo molto prima di quanto faceva la premiata ditta paratici netved company e questa cosa mi sta piacendo perché sta prendendo comunque oltre a smennare la squadra sta riuscendo comunque a rivoluzionare a riuscire a mandare via qualche giocatore perché comunque c'è di fare siano odori della rabbia sedita pare che sia fatta praticamente in rabbia sedita sta cercando diciamo che non sta non si sta mettendo a pecora per abbio a livello di ingaggio per quanto tutti dicono c'è il decreto crescita e quindi può essere un vantaggio però al momento non sia conferma ufficiale che la juventus ha come priorità il rinnovo di rabbio e chi lo sa se poi ci saranno altri copi di prospettiva perché sinceramente contego motta non finisce qua al mercato perché penso nelle prossime settimane arriverà l'annuncio dell'arrivo di di gregorio con poi in primis la cessione di chesney alla snar poi avrebbe avuto anche l'annuncio dell'arrivo di dacus luiz che pare sia vicinissimo alla juventus giocatore praticamente della stonvilla con operazione di 18 barra 20 milioni con i cartellini di michaeli che se fosse vero sarebbe sarebbe buono sarebbe veramente top se dovesse arrivare questa questa offerta e se diciamo fosse fosse fatto poi c'è stata dimenticavo anche la cessione di caio giorce perché caio giorce è stato mandato al cruzeiro con una cifra di c mi sembra se non mi sbaglio di 5 6 milioni la cifra di anzi di 7,2 milioni qua mi dicono con la juve che fa 3,1 milioni di plus valenza poi se mi chiedete della sponsorizzazione di altre cose bisogna avere pazienza penso che la questione di sponsorizzazione lo sapremo entro la fine di giugno anche perché la juventus non credo si presenterà senza senza sponsorizzazione detto ciò su tiago motta ho buone buone aspettative da lui diciamo che è un allenatore che ha buon coraggio a gran coraggio perché comunque passare in una squadra dove comunque non si ha grandissimi pertese a una squadra dove se si fallisce un anno ti fanno mazzo così vuol dire che è un allenatore molto molto coraggioso poi vediamo ragazzi se se farà bene o no la juventus bisogna prima cosa ragazzi avere molta pazienza perché so che cambiando tanti giocatori i primi mesi saranno difficili i primi due mesi la juventus quindi noi tifosi dovemo avere molta pazienza con tiago motta dovremmo sostenere la squadra nei momenti di difficoltà e non iniziare già a dire tiago motta out questo out eccetera eccetera perché tanto lo so tanto lo so benissimo che gli agli e greani saranno già la alla primo pareggio al prima sconfitta a rompere le scatole dicendo avete visto che tiago motta non è adatto ad allenare la juventus ma tanto anche se fosse arrivato il miglior allenatore del mondo avrebbero rotto le palle quindi cosa ci vuoi cosa ci vuoi fare comunque io ripeto sono soddisfatto che sia arrivato al di agomotta piuttosto dell'ennesima minestra riscaldata chiamata donio conte perché comunque ci avviamo su un allenatore che ha comunque dato un buon gioco al bologna un allenatore comunque che pretende tanto che prepara bene le proprie squadre e vediamo quello che succederà vediamo cosa succederà vediamo poi vendendo dal mercato che sta facendo i ventus perché se forse sono questi colpi che sta arrivando i ventus la juventus come può ambire a fare un buon campionato bisognerà diciamo fare poi le valutazioni su tiago motta con molta molta calma sono contento che arrivato tiago motta bisogna spero che faccia bene speriamo soprattutto che riesce a alimentarsi l'ambiente juventino speriamo che ci regala tante soddisfazioni io quantomeno sono soddisfatto non sono di darò fiducia al mister e sarà un molto paziente detto ciò benvenuto tiago motta benvenuta alla nostra cara amata juventus football club che ci possa questa nuova questa tua avventura la juventus ci possa portare tante soddisfazioni sia in italia e soprattutto nei terreni forse più difficili per noi i ventini ovvero l'europa spero che con te riusciamo magari in giro i due tre anni a guadagnarci un trofeo europeo per quanto con la nuova formula della champions league sarà molto molto difficile ma chi lo sa magari con te mister riusciremo forse a regalarci qualche soddisfazioni ma vedremo perché sarà sarà al destino a decidere se riusciremo a portare a casa un trofeo europeo o no in italia forse qualcosina potremmo portare a casa ma vediamo perché comunque il calcio è strano il calcio è capace di regalare cose che non ci aspetteremo mai comunque benvenuto tiago motta benvenuto alla juventus e buona fortuna ragazzi direi di chiudere qual video iscrivetevi al canale attivate la campanellina fino alla fine ragazzi forza juventus stay tuned stay click benvenuto tiago motta ciao alla prossima